Luigi Maffioli, allo stand Gottifredi Maffioli, il salone è un appuntamento irrinunciabile, ma c'è un climb che mi colpisce di Gottifredi Maffioli. First Innovation, cioè un'azienda con una storia come la vostra, che ha raggiunto il massimo che si può raggiungere, la Coppa America, l'Oceano, grandi barche, soldini, pedote, però si continua a innovare Luigi. Quali sono gli ultimi step in questa marcia infinita verso l'innovazione? Sì, un'azienda quando vuole essere innovativa non può mai fermarsi, insomma, quindi per noi la ricerca di nuovi materiali, applicazioni nuove è sempre fondamentale, anche perché lavorando nel mondo della competizione dobbiamo sempre cercare di arrivare primi al lancio di nuove idee e soluzioni. Quindi da un punto di vista tecnico stiamo lavorando chiaramente a ottimizzare tutti i sistemi, quindi arrivando a personalizzare sempre di più la singola cima, portando innovazione in ambiti in cui anche prima erano molto tradizionali come può essere Cimedore Major che negli ultimi anni abbiamo un po' rivoluzionato soprattutto nel mondo dei super yacht. Per noi però innovazione vuol dire anche tutto quello che è collaterale al processo e al nostro modo di rapportarci con l'ambiente in cui viviamo sia ambientale che sociale. Sia a livello produttivo sia a livello di utilizzo del prodotto. Sì, devo dire anche perché non possiamo non porci il problema di quello che poi è il fine vita del nostro prodotto e quindi stiamo iniziando a ragionare non solo sull'utilizzo di materiali che siano a minore impatto ambientale, quindi dall'anno scorso tutto il dinema che produciamo è 100% bio-based, quindi certificato con provenienza della materia prima di produzione di origine biologica pur mantenendo la performance assoluta. Facciamo qualche esempio concreto dove questa innovazione dall'aspetto ambientale in particolare trova applicazione? Diciamo innanzitutto partiamo dalla materia prima, nel senso che dall'anno scorso il dinema ci ha dato la possibilità di scegliere una provenienza del materiale di origine bio-based e quindi abbiamo scelto fin dall'anno scorso di spostare tutta la nostra produzione di cime in dinema su questa provenienza, quindi impegnandoci ad acquistare dinema di origine. Diciamo che il processo produttivo rimane analogo, quindi rimane un materiale di sintesi, però la partenza del ciclo produttivo non parte più dal petrolio ma da fonti biologiche da cui poi viene generato il polimero e la materia prima. Adesso chiaramente vorremmo porci il problema anche di quello che succede alla fine della vita del prodotto e quindi innanzitutto stiamo cercando di lavorare su prodotti sempre più durevoli e anche su offerte di soluzioni, soprattutto a un certo tipo di clientela per mantenere la vita del prodotto più a lungo, quindi offrire processi di ricalzatura, di condizionamento dei prodotti, soprattutto sui super yacht dove i volumi sono importanti, proprio per cercare di ridurre la quantità di materiale che poi deve essere scartato. Allungare la vita significa anche diminuire... Innanzitutto mantenerle, esatto. E poi abbiamo avviato per esempio anche con Dinema un progetto non semplice, quindi chiaramente avrà necessità di anni per essere sviluppato per riuscire a trovare soluzioni per il riutilizzo o il riciclo di parte dei materiali ed è oggettivamente, però materiale ad alta resistenza come il nostro non è banale anche perché è interessante anche per voi e anche per te come imprenditore questa area che riguarda proprio la ricerca, secondo me anche appagante in un certo senso perché porta l'azienda verso nuovi traguardi. I rapporti con alcuni clienti importanti, Giancarlo Pedote, Giovanni Soldini, Flying Nica, Cettilar di Roberto Lacorte, come sono? Anche loro entrano nel processo produttivo, nel senso che tu hai parlato di personalizzazione, come che ne so, i comandanti di grandi yacht che vanno in cantiera a seguire le fasi di costruzione, vengono, partecipano, danno dei consigli, delle idee, c'è un'interazione, una collaborazione in questo senso? Sì, devo dire, piace particolarmente quando poi abbiamo l'occasione di mostrare il nostro processo produttivo ai nostri clienti, proprio perché ci permette a volte di interagire ed è anche parte del nostro processo di innovazione. Quando abbiamo quindi il cliente che riesce a capire quello che facciamo, come lo facciamo, a volte ci può dare anche delle indicazioni, è più facile in qualche modo dialogare da questo punto di vista. E chiaramente l'input maggiore che ci viene dato è sulla loro esigenza, poi chiaramente il come arrivare a soddisfarla è la parte del nostro know-how che negli anni abbiamo sviluppato. Poi abbiamo detto clienti top, ma poi c'è anche tutta la clientela di base, migliaia di persone che diventano clienti di Gottifredi Maffioli attraverso i rivenditori, eccetera, o anche direttamente possono, come funziona, diciamo, come fa uno che ha una barca normale che non è Giovanni Soldini o Giancarlo Pedote, vuole rifare il set di cime della propria barca e si vuole avvicinare a voi? Come fa? Va sul sito? Sì, diciamo, chiaramente noi abbiamo una rete di rivenditori, ormai capillare soprattutto in Italia, per cui, diciamo, dal punto di vista di soddisfazione commerciale la rete vendita è sicuramente attrezzata per poterlo fare, noi chiaramente siamo sempre a disposizione per quanto riguarda l'informazione tecnica, il know-how e cercare di spiegare quanto meglio possibile le caratteristiche dei prodotti e anche la loro applicazione, perché poi in realtà la cima deve poi sempre avere una lavorazione che in alcuni casi può essere, soprattutto magari nel mondo delle derive, stiamo cercando di educare anche il velista, l'utilizzatore, a poi lavorarlo, a trovare la sua soluzione, chiaramente su barche più grandi bisogna rivolgersi poi agli attrezzisti o a rigger che possano fare la lavorazione. È stato bene a citare il mondo delle derive perché effettivamente è un mondo dove comunque a livello agonistico crescono tanti giovani, la federazione vela ha tanti risultati, ma insomma il futuro della vela passa anche attraverso quelle barche lì che poi un domani diventano barche più grandi. Con Rossella Maffioli facciamo questa intervista al salone che si conclude tradizionalmente con un'analisi del muro qui, della parete, con tutte le varie cime in cui le andiamo un po' ad analizzare, quelle più importanti e a spiegare il tipo di fabbricazione e il tipo di utilizzo. Ti va di prestarti a questa cosa anche con noi, anche perché c'è un po' i vari tipi e anche qua vedi First Innovation, la nostra gamma è connotata da tanta varietà proprio perché nel corso degli anni trovandoci ad affrontare tipologie di barche, di esigenze diverse abbiamo sviluppato soluzioni a volte anche molto specifiche. In particolar modo in questa carrellata vediamo buona parte dei prodotti dedicati al mondo delle regate. GP Custom è tipicamente la nostra linea dedicata alle barche Grand Prix, insomma alle barche della regata più spinte. Quindi tutta la gamma Race declinata in versione SK78 e SK99 che sono i due materiali di riferimento, le due tipologie di Dainima che costituiscono la parte portante, in entrambi i casi sempre bio-based, con poi tutta una serie di calze che vanno dalla tradizionale calza in poliestere fino alle più sofisticate calze a base PBO, Zylon, che sono di derivazione Coppa America, tanto per intenderci. Ogni calza ha proprio una sua specificità, quella magari più votata all'utilizzo sul winch, quella invece con maggior tenuta nello stopper, proprio perché quando salgono le necessità tecniche non esiste più il prodotto all-round che può andare bene per tutto, ma bisogna essere molto specifici. Quelle più grosse, più doppie che abbiamo visto in basso? Questa in realtà è proprio la parte dedicata ai super yacht, quindi il prodotto tipico è il Captivia, che è un prodotto che abbiamo sviluppato nel corso degli anni per Captive Winch, tipicamente mega yacht molto spesso, scotte o anche drizze, vengono utilizzate su Captive Winch e questa tipologia di cima ha delle caratteristiche particolari, proprio perché sia legata alle dimensioni e anche proprio al funzionamento di questo genere di macchine che richiede. Senti, concludiamo, hai citato Coppa America, parola magica, il vostro rapporto col mondo America's Cup, se avete già contatti con i team, cosa si può dire, perché qui quando si parla di Coppa America bisogna sempre usare le molle e passare con il rallentatore, Gottifredi Maffioli e l'America's Cup. Per noi la Coppa America è stato l'ingresso nel mondo della vela, Gottifredi Maffioli è entrata nel mondo della vela con Azzurra nel 1983, per cui da allora siamo legati a doppio filo al mondo della Coppa America. Per la prossima edizione poi per noi è particolarmente gradito partecipare con due dei team storici della nostra storia, sono Luna Rossa e Alinghi, quindi rivedere Alinghi in competizione per noi è particolarmente importante, è di fianco a Luna Rossa con cui collaboriamo. dal 2000 insomma è particolarmente interessante. E poi c'è anche un team nuovo in ingresso. Wow, wow, cioè in ingresso nel senso nuovo che ancora non sappiamo, nessuno sa che c'è un... No, 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 no. Ah, tra i team iscritti c'è un'altra, una new entry prossimamente. Bellissimo, bel finale. Ciao Luigi, grazie, buon lavoro. Grazie. A presto. State con noi. Grazie.